Lu, Mosini, sei qua? Senti, preferisci Rai 1 o Canale 5? Io preferisco Rai 1, Mattano. Mosini guarda tutta la tv pomeridiana. Allora, io metto Mattano, che preferisco. Ah, c'è il TG. Vuoi il TG, amore? Guardi il TG, sì. Ma ho che faccia addormentata. In questo periodo fai tantissime nanne. Allora, dovete sapere che ho lasciato Mosini dal nonno, perché Mosini alle 5 e mezza mi sveglia e non mi fa più dormire. Io avevo bisogno di dormire, allora l'ho lasciato dal nonno e il nonno ha detto che non ha chiuso occhio. Dure le opposizioni, giornata triste per la democrazia per Fiorova. Si intervolisce il quidinale e si esatura il Parlamento e le preoccupazioni di Schlein. Un pasticcio pericoloso che serve di strada degli italiani dalla manovra. Si taglia le pensioni, taglia la sanità, tassa persino ai partiti. Ecco, mi raccomando, dormi bene. Mi raccomando che tu non debba perdere neanche un minuto di sonno. La guerra in Medio Oriente, il 7 italo palestinese,